Ciao, io mi presento, sono Davide Disegni, fisioterapista ed osteopata, che si occupa del canale MDM Fisioterapia, un canale che si occupa di medicina, fisioterapia, appunto, ed osteopatia. Ho contattato Paolo Grisendi, diciamo quasi per caso, incontrandolo probabilmente come tanti di voi, direttamente dai vari video che pubblica su YouTube. Mi è piaciuta molto la professionalità e il suo approccio nel costruire un brand che possa essere fruibile per dei canali, appunto. Devo dire che ho trovato una persona competente, assolutamente preparata per quanto riguarda questo ambito, che è un ambito, diciamo, anche un po' oscuro per quanto riguarda il web marketing, e devo dire che ho trovato consigli giusti che hanno fatto gradualmente crescere il mio canale, portandomi oggi ad avere in questo momento circa 18.000 utenti. Devo dire che mi ha dato un metodo di lavoro, che è assolutamente un plus importante per crescere su YouTube, e soprattutto mi ha dato, diciamo così, quegli strumenti che mi permettono gradualmente anche di studiare e andare avanti con le mie gambe. Quindi, devo dire quindi che la professionalità e, diciamo, l'approccio di Paolo ai canali YouTube è assolutamente un valore aggiunto, e quindi se anche tu hai bisogno di far crescere il tuo canale, Paolo è la scelta migliore.